ciao ragazzi due giorni alla partenza piove tutti i lavori che si potevano fare li ho fatti pulizia filtro aria filtro benzina smontato la pompa contro i corpi farfallati non abbiamo trovato l'anomalia quindi si partirà comunque col puzzle intanto però incontrerò una persona di un'azienda che fa telaietti per g6r prenderò intanto comprerò il telaietti perché nella peggiore delle ipotesi devo avere un piano b pronto intanto questo è il prezzo del biglietto di sola andata da brindisi a igomenizza 55 euro con moto e passaggio ponte per cui nessuna sistemazione 9 ore la durata complessiva della traversata questa è la svolta ragazzi ho fatto questo acquisto su amazon praticamente non so se si vede è una pennetta usb che si attacca sotto l'iphone con una micro sd all'interno e quindi mi trasferisce tutti i video che ho fatto comunque i video che ho selezionato così me li trasferisco poi sul pc ok allora ho dovuto stampare questa autorizzazione che è obbligatoria da quando c'è i covip per entrare in grecia è un po come l'autorizzazione per entrare negli stati uniti biglietto per la grimaldi e c'è un foglio da compilare come autocertificazione dove dichiaro di non essere positivo eccetera eccetera eccoci qua sono con ivan che mi ha fatto questo super favore qui c'è il mio piano b cioè i telaietti del gs xr allora queste sono le istruzioni con il kit di viteria nuovo perfetto qualche adesivo trovo che lo apriamo no no va bene tanto questi vanno ai due fori delle vanno stretti a pacco con le pedale bella lì enjoy il giorno sei la mia salvezza se il puzzle non dovesse andare partirò col gs xr avrei dovuto ordinare dal sito poi c'è la spedizione partiva magari il giorno dopo mi sarebbe arrivato giovedì io giovedì dovevo già partire quindi adesso adesso ce li ho consegna a domicilio praticamente milano su milano perfetto grazie ivan alla prossima grazie a te ciao adesso un bel risciacquo questo suono non mi piace non mi piace proprio vabbè intanto monto i telaietti al gs xr vediamo se potrebbe diventare il piano b però dovrei cambiare le gomme scambiarle con quelle del fuzz perché queste sono andate ciao vediamo il mio piano b molto molto bello non male non male anzi devo dire veramente bello soluzione pulita eh le probabilità che prendo il gs xr stanno aumentando vertiginosamente i telaietti ce li ho le borse le ho già montate fascettate sono perfette il problema sono le gomme allora stavo pensando visto che io devo portare tutte e due le moto da marco uiii l'unica cosa che posso fare adesso porto una moto al box di fra domani mattina porto l'altra le porto tutte e due da te e ti devo chiedere di smontarmi le quattro gomme così io prendo il pagero e me le porto da Margotta a far scambiare le gomme ah perché poi sono le gomme nuove si diciamo che le gomme del GSXR sono praticamente a zero e vuoi mantenerle su da anti-dure? ah è vero perché servono i cavalletti porca puttana va bene adesso sono così top va bene ciao 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 il mio piano B ma dov'è il mio caffè? io sto parlando con questa bella ragazza c'è un cielo di entrata e questo di uscita ok hai visto il mio piano B? qua lo zaino a posto ok vado a prendere l'altra moto e arrivo peccato accendi i sigari ho fatto passare il cavo di qua questo lo fascetteremo qua allora moto, cavallettate entrambe e adesso viene bello eh soliti i cazzi miei come al solito qui qua si sta sfiorando hai una volta che fa la pressione delle gomme e basta sta sfiorando un'epicità veramente senza precedenti però ho bisogno delle chiavi del pagelo macchina di fra vetro rotto tutto regolare ah comunque la macchina è confortevole poi c'è anche il venticello che arriva dal finestrino dietro perfetto gomme caricate adesso si va da Margotta vediamo se mi manda a fare un culo perfetto zio che pensi? che fettino le bambe? qui ve lo ricordate è già venuto in un video quando mi ha montato queste quando erano nuove mancano due giorni alla partenza l'obiettivo questa volta è arrivare a capo sud stiamo rimontando il padellone originale spogliati Marco aspetta l'altro di qua ha preso? no neanche questo di qua? no Marco ci ho ripensato mi puoi rimettere il dominator? ma io ci ho ripensato un paio di anni di galera e me li faccio adesso ma mentre ci stiamo bisogna rimettere manca solo una ruota come potete ben vedere stanno montando la ruota di dietro non esce però hanno dei problemi al tubo ha messo la ruota all'incontrario però perché dice Francesco che consuma di meno allora la moto l'ha messa così oh Bisio se parto senza il fuzzer si fa questa volta non pioverà perché è il fuzzer da tirare la piove ok perfetto non mi porto neanche l'antipioggio vedrete che da domani ci sarà il diluvio universale dopo ci siamo ok è fatta ragazzi sto piangendo bene il fuzzer è pronto per partire accendendo i sigari faccio scettato ciao ragazzi sono le 18 sono appena tornato a casa sono soddisfatto sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare vi vorrei ringraziare le persone che mi hanno aiutato in questa impresa di cambio moto last minute e quindi Ivan di RTP Motorcycle che mi ha venduto i telaietti per il GSXR per le borse laterali poi non posso che ringraziare Marco gli faranno una stava un santo io solo ieri sera gli ho detto che c'erano da fare questi lavori mi ha aiutato in tutto ringrazio Fra che mi ha accompagnato a casa ieri quando ho portato la moto di là poi mi ha prestato la sua moto per uscire ieri sera poi mi ha prestato la sua macchina cioè assolutamente Fra grazie e le borse con cui viaggerò con GSXR sono anche le sue quindi veramente grazie mille Fra ci sei sempre nel momento del bisogno Fra c'è ringrazio Raffa che mi ha restituito il telo in microfibra che avevamo usato nella zingarata non so se ve lo ricordate la zingarata in Liguria vi metto il link in alto a destra ringrazio Giamba che oggi pomeriggio se riusciamo a vederci mi presterà lui vorrebbe prestarmi la giacca che io volevo comprare quindi io non so se accettarlo o meno adesso vediamo mi vuole anche prestare le batterie della GoPro chi più posso ringraziare? no basta eh se ho dimenticato qualcuno sono nella merda perché adesso devo scaricare questo video lo devo pubblicare poi magari qualcuno mi chiama e dice oh ma penso di merda va bene dai se il viaggio va bene lo saprete nelle storie di Instagram quindi seguitemi su Instagram e poi vedrete i video perché io non so se avrò il tempo per editarli sul portatile anche perché è lento come una merda probabilmente li editerò direttamente sull'iPhone e li caricherò in differita quindi venimi a top e ci vediamo nelle storie su Instagram a presto e grazie a tutti ciao